Era uno che gli ha fatto dire Allora io faccio il bagnone e gli ha fatto girare E non vedi, è tutta una roba Faccio tutta una roba Mamma mia, non me lo ricordo Allora, sai? Ah, non è cresciuto, è arrivato all'altro, è vero? Tutti i curiosi, no? Un mondo lo faccio vedere Ma cercava la limosina Ma è tutta una roba E' tutta una roba E' tutta una roba E' un'altra roba Ma è caldo E' passato Maria, non mi faceva limosina Ma è una roba Ma è una roba Allora, allora, no, se io è giusto Era un piccolo, mi ha detto E mi ha pillato la roba, sai? E' stata la roba Ma, quanto è bene il tuo marito Ti ho visto, formato che era presa Ti ho visto come sei così, tanto se la pigliata, se la pigliata. Ho fatto subito che se la pigliata dice per il padre guardiano, capito? Ho bisogno di un latte. Non ho fatto subito. Allora, è cresciuta. Ha spiato, c'era il luciartino, se la mamma te reto, no? E ho visto la traccia. Ma... Ora ti ho studiato. Allora, sta vestito. Capito? Non stiamo ai giorni, il padre guardiano. Non stiamo a portare. Non stiamo a portare. Non stiamo a portare, no? Si era in cerca del dottore, sempre. Noi chiamavano il dottore. Si tratta di tutto, bello. Stiamo a portare un signore. Stiamo a portare un bastone alle mani. Un cartello, un caldo, un portellino. E poi si piava da nani. Stiamo a portare le cucine. Se ne pregavamo a portare tutti, non lo contavamo, no? Allora, un picciniere di corte. Cioè, chiamano il dottore con il padre guardiano riapitiato. Allora, arrivano. Si dice, eh, si dice, dove andate? Dove andate? Cos'avete capitato di così tanto di corte? Si dice, eh? Si dice, il padre guardiano sta per morire. Si dice, e perché io non sono un dottore? Si dice, oh, dottore mio. Praticamente non stavo. Ciamano, ciamano. Fugito. E dice, no, il padre guardiano, no? Ha visto che la dico che parla è una proposta. No, no. Era proprio un malato. Era un malato. E' così. E' un pensionato d'assurdo. Si è cacciato. Ho potuto stare fuori con le mie ricette, no? Eh, dice questo, ha bisogno di. Quanti frate siete? Quanti frate siete? Eh, dice. Signore mio, sei il primo? Dice in cinque, dice. A questo con me. Con il padre. Con il padre guardiamo. Si, si dice, con il padre guardiamo. Lo stascia ha visto quanto è la mia notte. Ah, dice in quattro, padre. E il padre guardiamo cinque. Sì, è la mia notte. Eh, la mia notte. E lui dice, allora, sapia questo con c'era il paese no? E lui dice, come non c'era il paese. Non lo ordinava. E lui dice, questo con c'era il paese non lo ordinava. E lui dice, questo che devo ordinare, e lui dice, non c'era. Dovete andare lontano. Dovete andare. Eh, più cari che si bocchia. E lui dice, no, no. Ah, 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 ah. E li mandava lontani, no? Quando fanno rontanati? Siamo in medicina. Un bacchino nelle mie vicine. E io sono rimasto con le guardianti, tutte le paloveglie, la caloncarizza. Quando si è regolato? Erano i bensi lontani, lontani, no? Stai guardando? Stai guardando? L'arrava dietro a sbagliare. Oh, figlio mio! Che che non faccia niente? Ma in mattina i soldi dove stanno? Devo muovere il giro. Allora, figlio mio, dai, sono la figlia dei. Donna, ora mi direi a fare cosa giustare. La figlia non me la piglio. Insomma, l'ha rubata completamente, no? L'ha defiscata e bello bello ammazzata. Dice, l'uno che è fatta la grappa. Poi se l'era ne scorciata, se l'era ne mangiata, la grappa, no? Allora figlio, che non viste la la pelle che era la grappa sua, no? Ah, vedi veniti mangiata, come a giuffare il desaccio, la fratturità, vedi? E così, no? Quando sono tornati, vedi, no? E hanno trovato, vado a guardare, c'è un morto del calvino, no? Sì. da quando? Eh, dai guardiamo, come stai? Ah, sì! Ti avevo detto, sapuagli, chi era, dice? Chi era? Ti avevo detto di far grappa? E ancora lui ho finito! E allora, sai, io stia sempre imberrettito, se scangiava, no? E poi, guardiamo, stia sempre fiacco, sai? All'altra mattina, insomma, per me c'è un altro costume, di piccolica tutto, le facce, le facce, le sopratiglia diverse, insomma, noi stiamo a mettere un povera, no? Insomma, a fine dei volti, ogni mattina si travestia, fino al mente, se mi finitucire tutto, mi dispare patruno del documento, voi perdite di scappare dall'aereo, se no non stai niti bene. Insomma, rimate patruno del documento, se volete tenete bene, vedi, mi ripassare tutto via, se no è giusto. Alla fine, proprio, non me lo ricordo, l'ho filmato, se mi combinavo, quante lingue combinavo, quante lingue combinavo. Ma io mi ricordo pure un punto, un canale. Tutto l'ho pregato sotto la terra. Eh, e questo è una volta. Sì, non me lo ricordo. Vedi, che nel giorno si era cozzaffane, e guardiamo, malato, malato, se ho caricato, se ho portato qui, no? Ah. Se ho portato. Molto capace, ma l'ha visto passi. Sì. Allora, Ido, si è messo cozzaffane. E allora, cozzaffane, no? E sapete che viene a saltare, senza dire bene? E vedete che se lo porti nel lì, guardiamo, no? No? Ah, che buono uomo. Lo state portando, tutto stracinato. E lasciatelo qui, quando tornate, ve lo pigliate, tutto, vecchio, con la barba, facendo la zaffa, no? No? Vedi, per me lo dà mi schiene, no? E allora torna, io, vado, ci hanno allontanato. Ha fatto una foglia, e non la stava, è un sacro di cuore. E la ricca, vi capite? E tutto preparato. E dopo stiamo, per dire che le raspirano, e poi dire, Sì, è me, frate, mi, frate, mi, frate, mi. E io poi sento io, no? Quando sono tornati a me, io mi hanno portato, mi dice, ma stava portato a calcare. E qui tu non stai neanche toccato. E dice, eh frate, mi, io? Dice, insomma, stanchi nella vita. E qui tu dice, se non mettai tutto il documento, tu hai finito la vita tua. E qui? E qui? un momento